Si chiude con il maestro John Nischling che dirigerà l'orchestra del Petruzzelli l'ultimo ciclo sinfonico del Politea Mabarese per il 2011. Sabato infatti nel Petruzzelli il pubblico ascolterà due pezzi lontani nel tempo fra loro, scritti in due continenti diversi ma entrambi significativi, come sottolinea il sovrintendente della Fondazione, Gian Domenico Vaccari. Nella prima parte, solista, il percussionista Filippo Lattanzi, ascolteremo il concerto Candela di Gabriela Ortisse. La narrativa dell'Ortisse è quasi interamente costruita sulle percussioni come strumenti solisti e concertanti. Nella seconda parte assisteremo a una grande prima per l'orchestra del Petruzzelli, ossia la quarta sinfonia di Anton Bruckner. È la prima volta che noi suoniamo Bruckner, che è stato uno tra i più grandi compositori di musica sinfonica di fine 800. Per un'orchestra in crescita che sta costruendo, fra altre cose, un repertorio, la prima volta di Bruckner è importantissimo. Grazie. Grazie.